e eccola qua la bellissima Ramona Pepe la selvaggia una dea selvaggia stupenda tutta abbronzata Ramona dove sei stata mamma mia al mare amore benvenuta all'Eros Adriatica ed è la prima volta che vieni in questa fiera o sei già stata? sarò qui stasera e domani sera quindi vi aspettiamo benissimo ti raccontaci qualcosa di te cosa stai facendo ultimamente insomma i tuoi progetti da quanto tempo fai questo lavoro? allora da quanto tempo faccio questo lavoro? amore tutto vicino alla bocca sì da quanto è che faccio questo lavoro è più o meno una vita fa saranno che ne so 18 anni più o meno e i miei progetti quali sono? rilassarmi in assoluto tutta l'estate poi i miei progetti saranno book fotografici, interviste varie, fiere che ci aspettano e quant'altro vari premi di cui Gianni hai vinto i parenti? sì sì al Bergamo Sex, miglior artista, miglior lesbo show è un animale da palco, è una performance pazzesca e quindi ci regalerà uno show veramente potente non vedo l'ora di vederlo Ramona intanto ti auguro un in bocca al lupo e benvenuta ancora grazie mille grazie grazie